La vita di tutti i giorni, lavoro, infortuni, sviluppo, sono stati i temi cardini del congresso regionale della UIL in corso di svolgimento a Città Sant'Angelo. Tra gli ospiti il segretario generale Pierpaolo Bombardieri, il quale è intervenuto proprio sulla tematica infortuni sul lavoro, l'abruzzo tra le peggiori in Italia e che vede l'Unione Italiana del Lavoro protagonista con la campagna Zero Morti sul Lavoro. Deliberando che ai bandi pubblici non possano partecipare le aziende che hanno violato le norme sulla sicurezza. C'è una questione culturale che dobbiamo condividere tutto, portando i temi della sicurezza sulla scuola, dentro la scuola, ma probabilmente anche con un aiuto da parte delle associazioni editoriali. Anche qui lancio una proposta a provocazione. Le associazioni editoriali, nel momento in cui verificano che c'è una loro azienda che ha violato le norme sulla sicurezza, mettessero fuori quell'azienda. Creiamo uno stacco, una distanza fra chi non applica le leggi in questo paese e mette a rischio la vita umana. Poi c'è la questione automotive. Ai lavoratori di questo comparto, polmone del PIL della nostra regione, Andrà, dice Bombardieri, garantito il lavoro qualora sia confermato il passaggio pieno entro il 2035 all'elettrico. Intanto noi dobbiamo rivendicare nei confronti della politica e del governo alcune scelte precise. Noi non siamo dell'avviso che il 2035 vada spostata come data. Bisogna che però la politica faccia delle scelte. Noi dobbiamo garantire degli investimenti per la trasformazione delle aziende che si occupano nel campo dell'automotive, per garantire l'indotto. Bisogna garantire investimenti per la formazione, la riqualificazione dei lavoratori. E soprattutto bisogna garantire investimenti nelle infrastrutture, perché se noi pensiamo di costruire le macchine elettriche e di non avere posti dove ricaricarle, probabilmente facciamo un errore. Quindi queste sono le scelte che il governo e la politica dovrebbero fare subito. Dovrebbero in qualche modo smetterla di litigare sui giornali e anche nel Parlamento e fare scelte concrete a favore delle aziende e dei lavoratori.